Viene il suo aiuto a tutti, questo è la partita, l'Italia si sta preparando. Martina Buzzo, in due, tre, a tutti, 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 percorso la partita, il passato di Veronica Bazzi, con un via buco, Dissate, di statunitone in destino, Musa, venire! Vili Ciaru, al sportverein, la tecce pianizza, Chiavba, Veronica Tessarolo, e la prossima che è partita con numero 318, Cristo di Vitneis, 319, Elena Zantonella, sono tre ragazze di Weissomfels, i spele peci prihajata Deklecci Forse cantare esse Aps Certo Achono Aps Sì, è vero, è vero, è vero. il passaggio è stato un progetto il passaggio il passaggio il passaggio è stato il passaggio un chiede ha perduto il passaggio Fiat, c'è gaboste, dobiliga primiè, siete tu le vassi, l'allora un signore ha perso la chiave. Vai Cristina, forza! Se avete trovato, siete pregati di prenderla qua. Zoi manca c'è lì sul pallone, Cristina Pettine è partita, Passo di Stimilco, Trista, Dwan, Scezde, Sdaile, Veronica, Jacopi, Gorie, Scezagna, Utei Categori. Allora stiamo aspettando, Ladies 5 km, 2 volte 2,5, e la prima con 374, Lavinia Garibaldi di Mau Cleulis che è pronta per partire. Vai Lavinia! Ecco la, è partita, ecco numero 77, Lluijgina Menean, che è malo felice, tudi tu le, una, come dire, scusenei, c'è come Vauk. Vai Lluijgina! Ecco la partita anche Lluijgina, Daniela Primus è naslednina. Anni Carazinger, nažalo, Siddur Starkus, 2380, mi mora la imeti. La disca si tolva per mattina, Isarguro, Martini Sussman, insieme da Siddur Starkus, allora è partita Davila Primus. Ecco la prossima Alessandra Primus. Alessandra Primus è la prossima, con 380. Doveva partire l'Anna Carazinger, comissionessa mondiale. Junior 2012 a Azzurum, Turchia però oggi qui non c'è, già lo spionì. Federica Bugliaro è la prossima, e poi Estervale, Lorela Baron, Ivana Consus e Miriam Cosettini. Doveva partire l'Eclita. Sì, ma non c'è l'Italia. Tieni non bene che domani. Allora qua vinci l'Italia, sono le nove ragazze alla Via Tite. Noi sono l'Italia e l'Italia è dichiarato già in parte. In Sommarca che qua su parte, non aspetta. Stervale... Aldo Moro, è pronto, Este. In Sommarca, in Sommarca, in Sommarca, in Sommarca, in Sommarca. Lupo Scipa, Sommarca, in Sommarca, in 2 novembre. Dai 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 dai. Grazie a tutti. 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 Via, 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 via. Grazie a tutti. 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 così, dai. Grazie a tutti. Dai, dai, dai. dai, dai. dai, 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 dai. dai, 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 dai dai, 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 dai dai, dai dai, dai, dai dai dai, dai dai, dai, dai 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Grazie Dai Simu, dai bravo, dai, dai Dai Cristian, dai, dai Dai bravo, dai bravo, dai bravo, dai bravo Dai, 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 dai Grazie a tutti.